Buon inizio di settimana, le notizie di oggi lunedì 13 di maggio, ben trovati. Nel corso dei controlli svolti dagli agenti del commissariato di Senigallia a questo fine settimana sono stati rintracciati 5 ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata e i giovani sono stati segnalati all'autorità amministrativa. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi i vigili del fuoco sono stati impegnati a domare un incendio divampato in uno dei capannoni della Comar, azienda dedita alla vendita di riparazione di macchine per il movimento a terra nei pressi della frazione di Borgobicchia di Senigallia. L'incendio ha interessato un capannone adibito a deposito dove erano custodite tre imbarcazioni. Sono in corso le indagini per stabilirne le cause. Ancora un incendio ieri mattina invece che ha danneggiato due trattori e la struttura all'interno della quale erano custoditi. È accaduto nei pressi di via Montebianco a Zonia Grazie. Sull'accaduto indagano i carabinieri che sono partiti dai primi e certamente effettuati proprio dai vigili del fuoco. Non si esclude la matrice Dolosa. A Fosforo il generale Garofano parla di femminicidio. Vediamo. Si è conclusa l'edizione 2013 di Fosforo, la festa della scienza. Tra gli avvenimenti di spicco l'incontro al teatro La Fenice di Senigallia con il generale Luciano Garofano, ex RIS di Parma, che ha parlato dei metodi scientifici nelle indagini forensi, ricostruendo i più noti casi di cronaca nazionale che troppo spesso vedono vittime le donne. Si può parlare di emergenza? Ma direi sì, anche se i dati degli ultimi anni sono in leggera decrescita. Però è cresciuta moltissimo la percentuale delle donne uccise rispetto al 9-8 dati degli omicidi in Italia. Quindi io credo che noi dobbiamo prendere contezza, soprattutto per occuparci cos'è che non funziona. E credo che questo è un argomento che stasera, nell'ambito del Fesco della Scienza, è assolutamente attuale. Dove inizia e dove finisce il ruolo tra scienziato e investigatore? Direi che abbiamo bisogno di tutti e due. La scienza si deve integrare con l'indagine tradizionale e questo è necessario perché, unendo insieme questi due presidi, noi possiamo avere idee investigative efficaci e risolvere i casi delittuosi. D'altra parte dobbiamo anche considerare che la scienza ci ha offerto negli ultimi tempi delle possibilità incredibili e quindi quelle intuizioni e quei dati, quei riferimenti scientifici così oggettivi spesso fanno la differenza e sono l'incipit di un'indagine che poi magari avrà anche successo. Forte apprezzamento per la volontà dei tre comuni Ripe, Monterado e Castelcolonna di fondersi in un unico ente. Questa è la posizione degli industriali del senegalese, convocati dai tre sindaci in questione che hanno loro esposto il progetto di fusione, oggetto di referendum popolare, il prossimo 19 e 20 di maggio. A Senigallia è stato approvato il PORU. Vediamo. Si iscrive PORU, ma si legge Programma Operativo di Riqualificazione Urbana ed è il primo atto ad essere approvato da un comune, quello di Senigallia, nella Regione Marche. È il primo atto che viene licenziato nella Regione Marche. Teniamo presente che la stessa Regione Marche ha previsto questo strumento nella Legge 22 del 2011. È un atto che è molto coerente con le politiche di governo del territorio di questa città che si fondano su alcune linee di indirizzo che sono risparmio nell'uso dei suoli, realizzazione di città pubblica di grande qualità. Per città pubblica ovviamente si intendono infrastrutture, aree verdi, e all'interno della città pubblica c'è anche la questione della politica della casa, quindi edilizia residenziale sociale. In questo atto praticamente si prevede la possibilità per aree già edificate, già urbanizzate, quindi vengono escluse le zone agricole, di poter essere oggetto di processi di rigenerazione urbana, ovviamente andando a intervenire su quanto è già costruito e su quanto è soprattutto in degrado. Terminiamo con una notizia di sport. Il Comitato regionale Marche della Federazione Tennis Tavola di Ramato con un comunicato i nominativi degli agonisti che si sono qualificati alla fase nazionale dopo i vari tornei il Tennis Tavolo Senigallia, 9 era 2 dei 10 qualificati regionali ed entrambi per la terza categoria, Ilaria Melucci, Agostino Piacente. I campionati italiani si svolgeranno dal 21 al 30 di giugno a Riva del Garda. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per il gentile ascolto e come al solito l'appuntamento è per l'edizione di domani. Grazie a tutti i nostri amici.